ciao allora video velocissimo per farvi vedere quello scontrino un paio di cosine che ho preso da tigotà allora tiriamole fuori si erano solo due eccolo qua questo è il nuovo primer dice di essere gym pro primer più o meno resiste a tutto ne hanno fatto anche uno simile di pupa comunque l'ho voluto provare 30 ml col telefono che suona 30 ml e mi è costato 4 euro e 49 e poi ho voluto provare anche questo che è il make me brown era polvere per le sopracciglia eccola qui e l'ho pagata alla faccia scontrino lunghissimo per due prodotti 2 euro e 99 questo era un piccolissimo video fatemi sapere se per caso volete la recensione di questi prodotti ciao un pochino diverso perché sono ancora in macchina comunque vi faccio vedere la saponeria cosa ho preso e questi che sono i tovagliolini questi qui a un euro con i convenienti ricarica del sapone questa è ottima perché sono due litri in offerta a un euro e 75 poi vediamo un altro po va bene i guanti in offerta 3 90 altra cosa molto interessante a un euro vediamo delle cose un po più interessanti eccola qui questa è la nuova maschera della fructist air food io penso quella la macadamia lisciante in offerta a 5 euro ho visto il l'inci non è neanche malvagio quindi ok poi vediamo va bene altre cosine che disinfettante ecco questo qua questo qui che lo trovo ottimo è il solvente per unghie del questo classico senza acetone della parisienne è fantastico 50 centesimi toglie benissimo lo smalto questo non quello blu perché quello blu e quello oleoso lo toglie più difficilmente mentre questo è fantastico a 50 centesimi alla fine dello shopping ho dimenticato di salutare e chiudere il video comunque sia non c'è problema rimediamo subito anche con questa pettinatura oscena comunque sia spero che questo video vi sia piaciuto con un po dello shopping fatemi sapere se ne volete altro man mano che lo faccio ovviamente mi raccomando sempre di mettere un like qui sotto se vi è piaciuto il video un commentino per farmi sapere dove volete che vado ad acquistare e mi raccomando sempre essere iscritti al canale così non perdete i prossimi video perché ancora non è ben deciso il giorno in cui li pubblico e la campanella così riceverete una comoda notifica ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao